Ah, non potevo che essere io ovviamente a presentarvi la birra acida per eccellenza che ha fatto la fortuna di questo birraio, è il verificio Torre Chiara, Panil, Rizzolosi e io definisco il birraio più spontaneo che abbiamo in Italia scontato che la birra è la divina sono contentissimo di aver preso questo riconoscimento per questa birra perché è una birra per me molto importante che fa parte di un progetto al quale lavoro da diverso tempo e spero abbia sviluppi anche per chi ci sta ancora lavorando non so quanto tempo ci vorrà ancora per avere la versione definitiva spero 100 anni perché non ci sarà mai una versione definitiva è una birra fermentazione spontanea ho preso i lieviti, il progetto era mettere i lieviti presenti nell'area della zona nella birra, stendendola fuori di notte e facendola inugolare dagli lieviti presenti sono molto contento e sono molto contento anche per il movimento artigiano italiano aggiungerei alle cose dette prime che secondo me è anche un movimento forse anche a livello inconscio un po' di ribellione a un certo tipo di mentalità che si è instaurata e che accanto benefici ha creato anche qualche disagio un visibile e invisibile ma c'è a mio avviso un po' 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 un po